In velocilandia anche qui non farò vedere il circuito come farlo o come sfidare gli aeroplani perché sono cose che si basano più che altro sulla bravura, non c'è un punto abilità né niente l'unico segreto è dove trovare Hunter per la sua quest segreta è abbastanza telefonata come cosa però si trova all'interno di questo casolare anche se qui devo dire una cosa in realtà che credo sia diversa dal vecchio Spiro questa sfida praticamente, questa quest, bisogna impersonare Hunter e volare attraverso il circuito facendo più giri ed eliminando i vari UFO delle pecore e le mucche spaziali tipo solo che una volta io ricordavo che se tu miravi un nemico e premevi per sparare il colpo andava dritto punto, cioè anzi un pochino si automirava il colpo e quindi il nemico lo colpivi qui invece bisogna essere molto più precisi anche perché è un po' più complicato gestire qui il mirino si muove molto più velocemente e quindi ci vuole un po' più di precisione qui oltre al fatto che da quanto ho visto il mirino forse il colpo non si autocentra diciamo che non prende tanto automaticamente il bersaglio e in più a volte compaiono i bersagli lontani che anche se spari dove sono loro in realtà non li colpisci perché il colpo non ci arriva mentre in quello vecchio da quanto ricordo io per quanto fossero lontani se vedevi il nemico e gli sparavi lo colpivi comunque qui invece no bisogna colpire quando si è abbastanza vicini altrimenti il colpo non arriva e si deve ricominciare tutto da capo grazie